Ora più che mai bisogna restare a casa e rispettare una proteina presa dai pipistrelli Cambia E' importante vi terremo sempre aggiornati Cambia, cambia, cambia Palmo contro palmo, poi bisogna, guardate, così Cambia, per carità cambia Con i lanciafiammi Cambia Oh ma non ti sta bene niente? No, è che non fanno più niente di bello, non ci stanno più i programmi di una volta E' incredibile La Santa Lucia di Vincenzo Pagani è una delle opere più note della Pinacoteca di Sarnano Eh no eh, l'audioguida stile Piero Angela no Ma dico, siamo chiusi in casa da settimane e di tanti modi per passare il tempo proprio la guida virtuale dentro un museo? A sto punto era meglio il burraco E zitto, fammi sentire Osservate il paesaggio, così ricco di dettagli Oh va, là dietro c'è un branco di maiali Ma che ti importa dei maiali? Guarda il quadro Notate ora il gruppo di animali da cortile custodito dai pastori Oh ma sentito? Ma che è interattivo sto coso? L'occhio attento avrà notato che pecore e maiali sono appena fuori dalle mura Capito? Ho l'occhio attento io Per le cose insignificanti Può sembrare un dettaglio insignificante Oh ma questo ci sente veramente? In realtà ci racconta un aspetto della vita sociale legato all'igiene e alle misure per limitare il diffondersi di malattie Beh stiamo proprio in tema Nella rubrica trentottesima degli antichi statuti di Sarnano si legge Nessuno permetta ai suoi porci di vagare per il paese sottopena di dieci soldi Dieci soldi? Per ciascun porco Per ciascun porco? Per ogni volta Fresca? Ai lanai invece è proibito sporcare l'acqua di fontane pubbliche E invece a noi oggi ci devono ricordare come si lavano le mani A proposito di mani Oh ma che? Un virtual tour? Questo pare proprio che ci sente La rubrica settantaquattresima parla delle pene per gli ufficiali che non hanno le mani pulite E afferma che chi riceve un salario dal pubblico debba contentarsi di quello Tipo l'ANAC Oh ma tu guarda quanta roba viene fuori da quattro maialetti Sai che ti dico? Quando usciamo da questo casino andiamo al museo Dovreste in effetti Oh ma ci sente veramente? Grazie dell'attenzione e alla prossima guida Ci sarà da andarci sul serio A sto museo Ma guarda che c'è da fare per portare le persone al museo